Ci siamo? Si può iniziare? È giunta l'ora? Allora, le magliette e il portiere si possono guardare. Allora, prima di tutto, prima di tutto, se vedrete cognomi strani, è normale, ma questa è la squadra. Non... Andrisani, Lanza, Rosi, Chiodi, eccetera, eccetera, non stanno in panchina. Sti due, più tutti questi altri, sono quelli che ho già trovato nella squadra, che stanno tutti sul mercato. Capito? Capito? Prosegui con le... No, voglio uscire. Allora, faccio un attimo vedere una cosa. Chiunque non gli piacciono gli scarpini o il numero di maglia, me lo dice e lo cambiamo subito. Allora, per i portieri non si vedono i numeri di maglia sui pantaloncini, non so perché, non mi ha fatto uscire la... Che potevo scegliere il colore del numero sulla maglia, per i portieri parlo. Invece, per... Questa è la prima maglia, bellissima. Allora, partiamo subito. Moscatelli col 1, Andrisani col 21, Simeoni col 2, Marco Simeoni, terzino sinistro, Panci, Emanuele Panci col 3. Vi faccio vedere anche un'altra cosa. Guardate che gagliardo. Questo è quanto valete e quanto prendete a settimana. Tipo, Moscatelli, età, 16 anni, siamo tutti 60, prende 850 euro a settimana, perché è umile. Dobbiamo imparare tutti da Moscatelli. Valore, un milione e cento. Andrisani prende 4,50 euro, è ancora più umile di Moscatelli. Questo non l'ho scelto io, l'ha scelto la CPU, l'ha scelto il computer, quanto piada a settimana. Simeoni, pure, vale un milione e due, valgono tutti un milione e due, come vedete. Menoncello un milione e mezzo, non so il per... Ah, già aumentato di uno, Menoncello, bene. Il dottore è già aumentato di uno. Panci più 8,50, Menoncello 4,50, però se non ricordo male ha preso 2 milioni di... Di ingaggio, hai capito? Ci avete lungo, Menoncello. Lazzarini, 900 euro, mincinesi 4,50, è il più umile di tutti i mincinesi, come già sapevamo, 16 anni, anche lui. Lanza, più a 900 euro, guardate che bello Lanza, io lo farei gioco a tutte le partite solo per i capelli, scarpini meravigliosi. Rosi, più a 400 euro, Rosi, io gli farei subito una statua a Sergetto, visto. Carriero anche, umiltà, umiltà della Basilicata, radici profonde in Basilicata, più a 4,50, molto umile. Antonio Leo, un donio, prende 400 euro, è ancora più umile. Lui sì che sa che vuol dire l'umiltà, è cameriere e sa che cosa vuol dire il lavoro, il sacrificio, e guardate che bei scarpini che gli ho messo. Questi sono tutti sul mercato, eh? Minieri, Minieri ha un po' rotto il cazzo sulle trattative. Minieri prende 900 euro, però ha il potenziale per diventare speciale, Minieri. Ecco perché è più a 900 euro. Rossi, io direi che Rossi è il nostro capitano perché? Perché Rossi, Dario Rossi, AS numero 11, 16 anni italiano, Dario Rossi, è capitano perché nessuno conosce più di lui i vigili del fuoco, il lavoro. Quindi gli ho messo la fascia di capitano apposta, scarpini meravigliosi anche a lui, lunghezza calze lunga. 850 euro, un milione e due, ha il potenziale per diventare speciale. Il nostro Mario Ermoso, Mario Ermoso che se si leva le mani da dietro la schiena, vediamo, le due fasciature bellissime. Si è rotto le mani perché ha spaccato la testa a uno che gli ha rubato il parcheggio l'altro ieri. 450 euro di stipendio, 17 anni, 60, un milione e due, ha il potenziale per diventare speciale. Poi Filocamo, Matteo Filocamo, Matteo Filocamo anche, un grande giocatore. Ha il potenziale anche lui per diventare speciale. C'ha 16 anni, certi hanno 17 anni e certi 16 perché stiamo al primo luglio. Quindi tutti quelli che sono nati prima di luglio, prima del primo luglio, c'hanno 17 anni. È normale, ma siamo tutti 2005, tranquilli. Non vi allarmate. Sala, questo è un giovane che ha trovato l'osservatore, cioè che ho trovato io, ma ha trovato l'osservatore in giro per il mondo. Ha il potenziale per diventare speciale anche lui? No, ma sta sul mercato uguale. Se abbiamo questi 3 milioni e 4 e non ce ne pensiamo più. Villa Bianchi, Vicorelli. Vicorelli, 550, è umile ma non troppo. Con il numero 69, per ovvi motivi naturalmente, ha il potenziale per diventare speciale. Va bene? Va bene così? Siamo tutti? Siamo tutti? Allora, vi faccio vedere un attimo e andiamo a vedere prima gli obiettivi. Allora, naturalmente eravamo tutti svincolati, quindi è stato centrato il primo obiettivo. Giampaolo è il nostro allenatore, come ho detto già prima. Allora, vabbè, questi sono tutti quelli. Ehi, mister, non me l'aspettavo di qua e di là. Dario Rossi scrive, salve mister, a nome di tutta la squadra, le do il benvenuto. Grazie, Dario, grazie. Piacere mio, piacere mio. Va bene? Va bene così? Allora, e... Dove stanno i sordi? Staff, primavera. Ciao, è mosto Danilo Vinsky, che è un osservatore che bisognerebbe mandare in giro per il mondo. Vedete? Nord America, Sud America, Europa Meridionale Centrale, eccetera, eccetera. Io direi che adesso non serve sto Danilo, perché ci fa sprecassoli i sordi. Perché, per esempio, se lo mandiamo in Italia tre mesi, gli diamo 90.000 euro. Mica so' pochi, dico io. Il budget del mercato, quest'anno, dove l'hanno messo? Penso su ufficio. 46 milioni di spese in questa stagione. Ma com'è possibile? Come vedete, hanno cambiato tutto qui. Questi sono tutti quelli che ho comprato. Allora, budget iniziale mi sono messo 50 milioni, ma naturalmente... Naturalmente li ho spesi tutti. Non per i giocatori, per gli osservatori. Perché non voglio averci 50 milioni per iniziare. È una squadra di serie B. Siamo una squadra di serie B. E quindi 4 milioni bastano. Cioè, ce l'avevamo nostri, 4 milioni effettivi. Dove sono? 4 milioni. Budget attuale, ecco. Budget attuale, 4 milioni. 81.000 di budget stipendi. Quindi, col passare del tempo, se vanno a pure giocatori importanti. Naturalmente, sempre se qualcuno va via, qualcuno di noi va via. Perché non lo so se vogliamo rimanere tutti. Se rimangono tutti, non ho idea. Relazione osservatore. Osservatori. Uno è in cerca di giovani prospetti in Italia. Un altro in Francia. E un altro lo mandiamo in Colombia. Non c'è la Colombia. Perché non c'è la Colombia? In Argentina. Perché non... Ah beh, perché in cerca del campionato... Eh no, però, perché non muovano tipo in Brasile? Non sto capendo. Vabbè, lascio così. Se no gli tocca da pure i sordi a questo. Niente, staff Primavera... No, staff Primavera. Vivaio volevo andare a vedere. Che non c'è nessuno messo su Vivaio. Dove cazzo sta il Vivaio? Non ci lo fa vedere naturalmente perché non c'è nessuno dentro. Va bene così? È tutto chiaro? Il calendario. Vediamo il calendario. Dove sta il calendario? Ufficio? Calendario. Ok. Calendario. Siamo al 2 luglio, ecco. Siamo al 2 luglio. 2 luglio, tra un po' compiranno gli anni Vigorelli che è nato il 6 agosto e Marino che è nato, Marino Menoncello che è nato il 9 agosto. L'altri, certi mi ricordo e certi no. Prima partita col Benevento, ci andiamo subito pesante proprio, abbiamo una scanizza tipo 4 a 0. Ragazzi, questo è, beh, saluto a tutti, buona serata a tutti. Ha stoppato? No. Grazie.